Hanno tante cose in comune, Paolo Indiani da una parte Zengo, Zeman dall'altra. Su una però differiscono, visto che il tachrico dell'Arezzo è un rigoroso salutista, mentre Zeman è noto per contendersi il primato delle sigarette fumate a Maurizio Sari e Walter Sabatini. Ma gli altri fattori che caratterizzano il loro modo di interpretare il calcio sono molto simili. Entrambi hanno il 4-3-3 come modello tattico di riferimento. Quando interprete di un calcio superoffensivo spesso le loro squadre sono salite alla ribalta proprio per l'enorme numero di gol realizzati. Da contrattare ci sono i buchi in difesa. Mandiani nella passata stagione ha effettuato dei correttivi in corsa raggiungendo anche dei compromessi con la sua idea di calcio pur di arrivare all'obiettivo. Non c'è dubbio che una squadra di Zeman esprima un calcio che piace alla gente. Il suo Foggia, tanto per fare un esempio, è stato il massimo punto di riferimento. Ma anche a Roma, in entrambe le sponde del Tevere, le sue squadre giocavano un calcio elettrizzante. Indiani che passa per un sacchiano e in realtà è uno Zemaniano nei modi e nei fatti. Un'altra cosa che li stiera in maniera parallela è la carta di identità. Infatti sono i due allenatori più anziani della terza serie e forse dell'intero panorama professionistico italiano. Braglia li segue di poco, ma non ditono indiani visto che Zeman ha sette anni di più.